Ieri mattina il vicario del questore di Salerno, Pio Amoriello, è stato ad Agropoli per incontrare il sindaco Adamo Coppola. La visita è stata operata al fine di valutare l'effettiva possibilità di attivare un commissariato di polizia di Stato con sede ad Agropoli. Segue la proposta, compiuta in tal senso alcuni giorni fa durante un incontro fatto a Vallo della Lucania, dal procuratore generale della Corte di Appello di Salerno, Leonida Primicerio, e il procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, accolta con grande favore dal primo cittadino di Agropoli. È seguito un sopralluogo presso la scuola Mozzillo, sita in piazza Mediterraneo, che è stata individuata quale potenziale sede per ospitare il nuovo presidio di sicurezza, che dovrebbe ospitare circa 40 agenti, il cui impegno si aggiungerebbe al proficuo e fondamentale lavoro svolto dalle compagnie dei carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che al comando di polizia municipale già esistenti. Era presente tra gli altri un architetto in accompagnamento al vicequestore, che ricevuti i documenti dall'ufficio tecnico comunale relativi al sito, farà presto avere reso conto delle modifiche da apportare all'edificio scolastico per adibirlo ad ospitare i poliziotti. Il sindaco ha dato la massima disponibilità al fine di assicurare sul territorio la presenza del nuovo presidio di sicurezza. Si attendono ora quindi comunicazioni da parte della questura per gli atti conseguenziali. Già la prossima settimana la giunta municipale procederà intanto ad approvare un atto di disponibilità a cedere in comodato gratuito alla sede individuata. Abbiamo intrapreso un percorso, afferma il sindaco Adamo Coppola, che potrebbe portarci ad attivare sul nostro territorio un commissario di polizia. Abbiamo effettuato i sopralluoghi presso il sito scelto quale potenziale sede e ho dato piena disponibilità a compiere le eventuali modifiche utili a rendere funzionali i locali per il commissariato. Sarà composto da circa 40 agenti e sarà operativo per Agropoli e i comuni limitrofi.